Funding Hub è la prima società italiana specializzata nel fornire finanza alternativa a primari sviluppatori immobiliari. Tramite Funding Hub le società immobiliari hanno accesso a forme di finanziamento molto più flessibili rispetto ai canali tradizionali. Queste forme di finanziamento sono rappresentate da piattaforme di crowdfunding e da altre tipologie di investitori cosiddetti professionali. Noi di Funding Hub siamo specializzati nella valutazione e nella selezione solo delle migliori opportunità di investimento. Riusciamo a farlo grazie a un sofisticato processo di valutazione che abbiamo messo a punto nel corso degli ultimi anni. Per questo motivo diverse categorie di investitori si affidano a noi per avere accesso a queste opportunità di investimento ad alto rendimento che altrimenti non riuscirebbero a trovare sul mercato. Siamo una realtà giovane, dal 2018 ci occupiamo di finanziamenti alternativi e nell'arco di circa tre anni abbiamo finanziato oltre 50 opportunità di investimento su tutto il territorio italiano. Abbiamo erogato più di 20 milioni di euro che hanno permesso ai nostri investitori di beneficiare di ritorni molto interessanti che si aggirano intorno alla doppia cifra su base annua. Come Funding Hub attualmente ci stiamo focalizzando sull'acquisizione di nuovi investitori professionali sia italiani sia internazionali e il nostro obiettivo entro i prossimi tre anni è quello di arrivare a una raccolta di 100 milioni di euro. In Funding Hub abbiamo sposato l'idea di una struttura snella e molto efficiente. Siamo un team giovane, siamo appassionati di nuove tecnologie da sempre e ci piace portare queste nuove tecnologie in un settore diciamo tradizionale che è quello dell'immobiliare. Insieme a noi collaborano anche tutta una serie di professionisti altamente qualificati che hanno anche esperienza pluridecennale e questo ci permette di sviluppare sempre nuove competenze al fine di offrire ai nostri investitori un servizio ottimale.